Una buona giornata, cari amici, vediamo cosa ci riserva questa giornata perché sono giorni veramente frenetici, convulsi per quanto riguarda il calcio italiano, la situazione di emergenza nel nostro paese e di conseguenza l'impossibilità da parte delle istituzioni di darci una sensazione di regolarità in questo spettacolare campionato che stiamo vivendo ma che in qualche modo è segnato dai fatti di questi giorni, dal continuo rinvio, la riprogrammazione delle partite, è veramente un momento in cui capirci qualcosa è complicato anche perché le notizie si inseguono, è un continuo rimbalzare di notifiche ad esempio sul mio telefono, io vedo quelle di OneFootball, OneFootball è un'applicazione che vi cito spesso perché io uso molto per il mio lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'approfondimento statistico però noto in questi giorni che torna anche molto utile dal punto di vista puramente informativo perché è un continuo lancio di agenzia, quindi vi metto in descrizione il link per scaricarla e in tutta questa situazione, in tutto questo caos globale organizzativo c'è una situazione specifica che in qualche modo ha messo ulteriore carne sul fuoco, sto parlando della situazione del Milan nulla a che vedere con le difficoltà che stanno attraversando il nostro movimento ma in casa Milan c'è una vera e propria crisi interna o, non so se si possa definire crisi, sicuramente un momento di totale cambiamento perché le esternazioni di Zvonimir Boban hanno scoperchiato una pentola che stava bollendo da un po' io ora non ho intenzione di parlarvi delle dinamiche societarie posso solo dirvi che lo sfogo di Boban lo trovo assolutamente condivisibile le parole disilluse, arrabbiate del grande uomo di calcio che ha capito di non poter portare la propria visione e il proprio lavoro al servizio di una causa che evidentemente è diversa ma non so quanto ci si potesse aspettare qualcosa di differente perché nel momento in cui un club è di proprietà di un fondo di investimento che piazza un uomo esclusivamente di conti, esclusivamente di gestione economica a capo della società come è appunto l'amministratore delegato Gazzidis allora è abbastanza immediato il pensiero che verrà operata una gestione non tanto orientata ad un innesto, ad un investimento anche se investimento non è la parola giusta di capitali per creare una grande squadra di calcio quanto l'idea di impiantare un modello che possa essere efficace sul piano del business calcistico che è sempre molto difficile e l'unico modo per fare business col calcio è quello del famoso player trading di instaurare un sistema che permetta di arrivare a prendere giocatori giovani giocatori non molto conosciuti giocatori che comportino un esborso limitato per poi svilupparli e rivenderli invece a cifre molto più alte questa è la situazione che si configura nel momento in cui un fondo di investimento prende il controllo del club da qui la bomba sganciata da Zvonimir Boban che ovviamente dopo quello che ha detto non può pensare di continuare a gestire il Milan probabilmente verrà rivoltata tutta la dirigenza perché anche Maldini, anche Ricky Massara sono figure che a questo punto diventano pressoché incompatibili con la gestione del club e il motivo per il quale c'è stata questa rottura che potrebbe portare addirittura leggendo le ultime notizie anche alle dimissioni di Stefano Pioli dopo la partita di Coppa Italia quindi a un addio, a un rompete le righe a un cambiamento generale già prima della fine della stagione e questo è tutto tranne che positivo il motivo è stato il fatto che è venuto alla luce il tentativo o qualcosa di più di un tentativo da parte dell'amministratore delegato Gazzidis di cominciare a programmare già la prossima stagione e di farlo attraverso la figura molto particolare di Ralf Rangnick manager tedesco che arriverebbe per essere una figura quasi nuova nel nostro calcio ovvero sia direttore dell'area tecnica che allenatore della squadra quello che voglio fare io oggi è provare a presentarvi la figura di Ralf Rangnick sempre partendo dal presupposto che parliamo di un uomo grande di calcio un uomo che ha messo un'impronta estremamente profonda sulle dinamiche calcistiche degli ultimi anni specialmente in Germania ma direi non solo perché poi l'eco del suo lavoro si è sparsa a livello mondiale ma è anche un uomo legato ad una metodologia di gestione non solo a livello dirigenziale ma anche tecnico molto particolare e un conto è impiantare questo tipo di modello in realtà tra virgolette vergini un altro conto è pensare di farlo in un club come il Milan uno dei club più importanti del mondo con un seguito gigantesco con una storia enorme e di conseguenza con delle pressioni molto diverse però prima di tutto vediamo chi è Ralf Rangnick e poi parliamo di quello che potrebbe avere intenzione di fare Rangnick era un calciatore di livello abbastanza modesto però se i piedi non erano di primissima qualità la testa ha sempre funzionato molto bene uno che negli anni 80 è andato a studiare in Inghilterra dal profondo della Germania per cui un'apertura mentale molto particolare per quello che è nell'ambiente in cui operava il calcio però è sempre stata la sua grande passione direi quasi qualcosa di più un'ossessione, un pensiero costante e lui già in età molto verde attorno ai 25-26 anni giocava a calcio ma era anche allenatore quindi questo doppio ruolo gli appartiene da ormai tanto tempo era il player manager per dirla all'inglese della squadra della società ovvero il Victoria Barknag parliamo di metà degli anni 80 parliamo soprattutto della stagione 83-84 il Victoria Barknag milita nella sesta divisione tedesca quindi parliamo di calcio dilettantistico in quell'epoca soprattutto d'inverno capitava spesso che in quella zona della Germania venisse a fare la preparazione invernale una delle squadre più importanti del mondo ovvero la Dinamo Kiev del colonnello Valeriy Lobanovski allenatore che a sua volta ha fatto la storia del calcio sovietico ma direi del calcio europeo in generale in quella fetta di tempo e capitava che la Dinamo avesse bisogno di fare delle amichevoli infrasettimanali per sviluppare gli allenamenti e per potersi testare bene un giorno capita che la Dinamo Kiev gioca appunto contro il Victoria Barknag di Ragnik e lui come sempre schiera la squadra si piazza in mezzo al campo leggenda vuole che dopo pochi minuti si sia fermato, abbia alzato la testa e abbia cominciato a contare gli avversari perché non credeva che potessero essere undici come loro vedeva di fronte a sé una squadra che operava un pressing forsennato che faceva qualcosa che lui non aveva mai visto e ne rimase completamente folgorato questa è una storia che ha delle basi però diciamo che è il punto di inizio anche un po' romanzesco di quella che è stata poi la carriera di Ragnik che già dalla stagione dopo ha cominciato a fare un passo avanti dal punto di vista della possibilità di esprimere i suoi concetti calcistici gli è stata data la chance di allenare le riserve dello Stoccarda e lì ha fatto un altro incontro importante per il suo sviluppo perché è arrivato a contatto con Helmut Gross un altro che aveva idee decisamente avanguardistiche per quello che era il calcio tedesco di quegli anni allora Ragnik e Gross hanno cominciato a studiare a pensare, a scrivere, a progettare e in quegli anni hanno avuto un'influenza molto grande anche dal calcio italiano il calcio italiano dominava il mondo il Milan di Sacchi aveva cambiato completamente il calcio ma in quegli anni Ragnik e Gross vennero anche a contatto con quello che era il miracoloso Foggia di Zeman che andava a fare la preparazione estiva in Trentino Alto Adige di conseguenza dalla Germania c'era la possibilità di andare a visionarlo Ragnik passò anni a vedere, spulciare gli allenamenti prima di Lobanovski quando portava la sua Dinamo in terra tedesca poi attraverso le videocassette di Sacchi andando a vedere da vicino Zeman e si è sviluppato in questi anni la convinzione di quello che sarebbe stato il suo calcio poi è venuta anche la parte menageriale ma il calcio di Ragnik si origina alla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 un'epoca in cui appunto il calcio stava cambiando e in Germania non voleva cambiare infatti Ragnik ha le prime grandi occasioni della sua carriera quando arriva a Stoccarda proponendo questo tipo di calcio abbastanza nuovo con il dogma della difesa a 4 in Germania ad esempio storicamente erano molto più ancorati sulla difesa a 3 con il libero pensiamo alla figura di Beckenbauer pensiamo a Sammer che ha vinto il pallone d'oro per il calcio tedesco giocando da libero pensiamo anche al finale di carriera di Lothar Matthäus che ha finito lì lui eliminava completamente questa figura proponeva una difesa a 4 il calcio a zona il pressing ed è una cosa che gli ha sempre portato dei risultati perché ad esempio anche a livello di categorie inferiori fece una sorta di miracolo con l'Ulm arrivato a Stoccarda però si è ritrovato di fronte una sorta di ostracismo da parte dell'intelligenza iperconservatrice del calcio tedesco in Germania spesso hanno fatto e fanno ancora oggi così rimangono ancorati a dei dettami piuttosto antichi quello che è stato il conto pagato dal calcio tedesco lo abbiamo visto fra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio e poi abbiamo visto come le cose siano cambiate radicalmente nel momento in cui sono arrivate figure che hanno portato proprio una visione più moderna del calcio penso a Klinsmann come CT penso a Birov come direttore sportivo della Nazionale per cui Rangnick diciamo che all'inizio è stato un po' sbeffeggiato c'è anche l'episodio abbastanza famoso di una sua presenza in un celebre programma televisivo in cui viene attaccato e quasi deriso da tutti però è andato avanti per la propria strada fra le cose che ha fatto Rangnick c'è stato anche preparare il terreno al Mainz per l'arrivo poi di Jurgen Klopp che da lì ha cominciato la sua scalata fino a diventare oggi l'allenatore considerato numero uno almeno in questo momento al mondo e il lavoro fatto precedentemente da Ralf Rangnick ha sicuramente a che vedere con quello che poi è diventato il gegenpressing marchio di fabbrica di Klopp il momento in cui Rangnick ottiene una vera propria svolta e arriva a farsi notare in maniera determinante in maniera decisiva è quando decide di sposare il progetto dell'Offenheim qual è il progetto dell'Offenheim? se ne è parlato molto anche in questi giorni per la contestazione fatta dai tifosi del Bayern Monaco al patron della società tedesca che ha rappresentato una sorta di ascesa miracolosa e lo spalancamento delle porte al nuovo sistema di fare calcio di stampo mitteleuropeo di stampo soprattutto tedesco perché il patron hop, miliardario, visionario e imprenditore estremamente anticonvenzionale prese questo club di un quartiere di una piccola cittadina immersa in una zona estremamente rurale della Germania con l'idea di portarla dall'ottava divisione tedesca fino ai vertici del calcio Rangnick diciamo che è entrato in corsa è entrato con l'Offenheim che era già arrivato fino alla terza serie da lì ha cominciato anche a capire e a sviluppare quelli che sarebbero stati i capisaldi della sua gestione menageriale del club ha incontrato una proprietà estremamente disposta non solo a sposare questo tipo di visioni ma anche ad annaffiarle con ingenti capitali perché Rangnick quando è arrivato ha cominciato ad instaurare cose completamente nuove per il calcio tedesco tipo l'ampliamento dello staff l'introduzione di figure come lo psicologo per poter avere un controllo diverso e più profondo della squadra ha insistito molto sul potenziamento delle strutture intese sia come centro di allenamento con tecniche sempre più all'avanguardia che come stadio di proprietà perché poi l'Offenheim ha costruito uno stadio suo uno stadio bellissimo uno stadio ecosostenibile insomma progetti sposati a pieno da una proprietà estremamente danarosa e portata all'investimento ma anche progetti molto innovativi e poi c'è stato il discorso dello scouting perché Rangnick ha un'idea di calcio molto precisa un'idea anche estremamente esigente e secondo lui è necessario per questo tipo di calcio non avere giocatori di grande nome o giocatori eccessivamente innamorati della palla ma bisogna avere atleti finissimi direi quasi accuminati e giocatori in grado di essere presenti agonisticamente e mentalmente nella partita in ogni secondo perché il calcio di Rangnick può essere riassunto in due termini pressing assolutamente la sua parola d'ordine fin dalla metà degli anni 80 e verticalità con l'Offenheim le cose sono andate molto bene poi ha fatto bene anche allo Schalke arrivando a farsi notare in Champions League a vincere dei trofei domestici con lo Schalke è finita in maniera un po' difficile nel senso che si è dimesso per eccessivo stress ha anche raccontato quel periodo difficile della sua vita in cui faticava proprio a gestire la pressione della panchina e per questo Rangnick rientra in scena per quella che è la sua grande costruzione il suo grande progetto nel 2012 quando si associa ad un'altra proprietà estremamente danarosa ed estremamente avanguardistica che gli affida la direzione del proprio modello stiamo parlando della Red Bull stiamo parlando del Salisburgo e dell'Ipsia quello che è il modello Red Bull il modo di fare calcio di questa multinazionale è un'altra situazione che viene contestata da certe frange conservatrici ma che piaccia o no nel calcio di oggi è sicuramente un modello da prendere in considerazione un modello anche con caratteristiche estremamente virtuose sia in ambito di business che in ambito poi di risultati sportivi Rangnick arriva a controllare il Lipsia e il Salisburgo dal 2012 e lì compie la sua opera magna quasi sempre nei panni del dirigente, del gestore dico quasi sempre perché due volte Rangnick si è ritrovato a scendere anche in panchina e sono state due volte decisamente significative perché lo ha fatto nella stagione 15-16 quando ha guidato il Lipsia alla promozione storica in Bundesliga vincendo in campionato 21 partite su 36 centrando una promozione straordinaria e poi lo ha rifatto successivamente portando un altro traguardo storico in mezzo c'era stata la gestione di Azenutl poi è tornato Rangnick in panchina e ha portato il Lipsia per la prima volta a qualificarsi in Champions League e a giocare una finale di Coppa Nazionale ha anche sviluppato e preparato il terreno per l'arrivo di Julian Nagelsmann che è l'allenatore che ha portato quest'anno il Lipsia per la prima volta nella fase di eliminazione diretta di Champions League un giovane, un altro che si è sviluppato e si è presentato all'Offenheim come Rangnick proponendo un modello di calcio estremamente moderno insomma questo per sommi capi il riassunto della carriera di questo allenatore manager, grande gestore calcistico che secondo la proprietà e secondo l'amministratore delegato del Milan dovrà essere l'uomo chiamato a guidare il progetto rosso-nero dei prossimi anni vi dicevo Rangnick dal punto di vista della gestione della società ha le idee molto chiare scouting profondo implementazione delle strutture questo bisogna vedere se si può fare a Milano e la ricerca di giocatori che siano estremamente funzionali al suo modo di fare calcio quindi magari non nomi importanti ma appunto ragazzi giovani che rispondano a determinati requisiti sul piano soprattutto fisico che siano molto plasmabili e che questo credo che sia l'obiettivo principale della proprietà siano molto ben rivendibili perché il player trading è un qualcosa che permette di poter fare business e che è sicuramente centrale nei pensieri della proprietà attuale del Milan ripeto, su quello che è stato il modello Red Bull ho fatto un video qualche tempo fa vi lascio il link in descrizione potete andare a rivederlo lì spiego piuttosto dettagliatamente come funziona il modello gestionale che Rangnick ha proposto e ha sviluppato a Lipsia e a Salisburgo è interessante però anche capire per concludere questa chiacchierata questa discussione su quale può essere l'orizzonte del Milan le idee di Rangnick allenatore e come vi dicevo i concetti fondamentali sono due pressing e verticalità perché comunque l'idea di Rangnick una volta recuperato il pallone andare dritti verso la meta si dice che lui preveda un tempo massimo di esecuzione dell'azione offensiva quindi da quando recuperi palla a quando arrivi al tiro di otto secondi ci vuole grande organizzazione ci vuole grande presenza atletica ci vuole un modello di calcio sviluppato attraverso allenamenti estremamente forti esigenti molto accurati anche sul piano dell'utilizzo delle tecnologie e appunto ci vuole una piena disponibilità da parte dei giocatori che si ottiene nel momento in cui vai a prendere giocatori assolutamente adatti e studiati per essere inseriti in questo sistema per sommi capi quello che potrebbe essere il calcio di Rangnick al Milan ora questa è la sua storia questo è il suo modo di vedere le cose io sono sicuro che se dovesse arrivare in Italia arriverebbe anche estremamente preparato perché è uno che studia è uno che approfondisce è uno che non lascia niente all'improvvisazione che possa funzionare o no questo non lo so sicuramente è un modello di fare calcio sicuramente è un modus operandi che può funzionare molto bene in realtà da costruire dove poter partire da zero ripeto con grandi fondi a disposizione e con la possibilità di operare in un ambiente ricettivo il Milan è tutt'altra cosa il Milan è uno dei club più importanti del mondo a livello di storia e tradizione è una delle piazze più grandi del paese ha una tifoseria estremamente esigente ha anche delle dinamiche che sono da considerare ad esempio non ha uno stadio di proprietà per cui ci sono un po' di fattori da mettere a sistema è chiaro che il Milan di oggi vive in un momento di grande confusione anche di grande problematica se il Milan del futuro sarà un Milan sul modello Rangnick sul modello di sviluppo che vi ho appena presentato lo vedremo l'idea è di fondo che bisogna per forza modernizzarsi soprattutto se non si ha a disposizione una proprietà di stampo mecenatistico ma un fondo di investimento che appunto deve fare il proprio business però i modelli nel calcio non possono essere impiantati ovunque c'è sempre bisogno di collegarsi a quello che è il substrato e considerare quelle che sono le dinamiche dei singoli posti se in Italia dovesse arrivare un modello del genere funzionale saremo sicuramente di fronte a una rivoluzione in un momento in cui nel calcio italiano cose nuove si vedono però impiantare questo tipo di visione al Milan mi sembra un qualcosa che possa portare più rischi che benefici soprattutto nel breve periodo e lo sappiamo bene in Italia di pazienza non ce n'è soprattutto se parliamo di una società una tifoseria un mondo come quello rosso-nero abituato negli ultimi anni non proprio negli ultimissimi ma nella sua storia recente a vincere, vincere, vincere e a lasciare la programmazione in secondo piano o meglio accompagnarla a quelli che sono stati dei trionfi quasi imperativi vedremo quel che succederà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti